a Roberto Ronco a Roberto Ronco a Roberto Ronco mi sembra Paganini riarrangiato da te direi in stile burlesque giusto Roby? si è un cappello di Paganini il tredicesimo che ho pensato di scherzarci un po' sopra prima abbiamo sentito una bellissima ciarda di Monti abbiamo avuto questa fortuna di rincontrare questa sera Roby Ronco un vecchio amico moltissimi di questo settore gli appassionati di Sinfonica lo conosceranno collabora spesso con la Sinfonica di Sanremo ma soprattutto è chiaro il lavoro per mesi, mesi, mesi tutti gli anni lavora in uno dei primissimi e bellissimi casinò di Las Vegas pensate che è lo stesso casinò niente meno dove canta ogni tanto Celine Dion tuoi programmi immediati, futuri Roby? allora io penso che ritornerò sempre in America negli Stati Uniti e certamente continuerò anche quando è possibile a collaborare con la Magnifica Orchestra Sinfonica di Sanremo perché è una grande orchestra e quindi mi piace stare con questi ragazzi va benissimo grazie Roby a dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti